A Teramo i fondi per la riqualificazione del mercato coperto verranno spostati per il recupero del teatro romano, un'operazione avviata dal Comune che convolge Regione e Unione Europea per integrare i finanziamenti già destinati alla valorizzazione dell'area arqueologica come rena per spettacoli da 600 posti. I 3 milioni di euro stanziati dalla Fondazione Tercas e dal Ministero dei Beni Culturali non basteranno infatti al pieno recupero dei resti di epoca imperiale, stimato sui 4,5 milioni di euro. Inoltre all'appello oggi sembrerebbe mancare anche la quota promessa a suo tempo dalla Regione Abruzzo. Siamo pronti per arrivare in Consiglio, ovviamente è un passaggio importante, fondamentale ma non ultimativo perché ovviamente contestualmente al percorso progettuale, quindi chiederemo l'approvazione del definitivo secondo le nostre indicazioni, ci sarà anche l'iter sostanzialmente per la variante urbanistica che è legata ovviamente alla procedura relativa alla posizione del vincolo per l'esproprio, per l'acquisizione dei due palazzi e la loro rimozione, che è un punto fondamentale e nodale del progetto che il Consiglio Comunale approvò nel 2010 e che poi è stato sviluppato fino all'approvazione del progetto Bellombo. Per quanto riguarda i fondi? Ovviamente la quota del Ministero e della fondazione è già presente, è già garantita. Sesta in realtà sospesa da tanto tempo la questione della quota in carico della Regione che è stata sempre annunciata dai governi che hanno guidato la Regione Abruzzo nel corso degli anni precedenti. Infatti noi siamo riusciti ad individuare un percorso con gli uffici regionali qualche settimana fa, qualche mese fa, che è dato dalla rimodulazione della SUS. In realtà è un progetto, per farla breve, che era stato presentato nel corso delle precedenti consigliature, che era stato di fatto abbandonato, quindi destinato ad essere perso sostanzialmente. Una quota di quel finanziamento, di circa un milione di euro, più un cofinanziamento che doveva mettere il Comune di 900 mila euro, in realtà potrebbe essere destinata alla valorizzazione del patrimonio culturale e quindi abbiamo salvato questo finanziamento destinando queste risorse al Teatro Romano. Un'opera che rappresenta, come abbiamo sempre detto, il rilancio non solo della città di Teramo, ma della provincia e dell'intera Regione.